Musica Oggi è martedì 24 aprile, buongiorno ai nostri ascoltatori, pomeriggio con noi subito sulle testate online per un aggiornamento di notizie della mattinata. Cominciamo con il sito Lucca in diretta, sì in consiglio comunale alla GESAM alla scissione asimmetrica, più quote a Toscana Energia in cambio della gestione in house di cimiteri, illuminazione e riscaldamento, scontro con le opposizioni sul metodo e sulle cifre. È la scissione asimmetrica di GESAM a tenere banco nel consiglio comunale di ieri sera 23 aprile. Al centro del dibattito dell'aula a Lucca delibera che dà definitivamente il via al rientro sotto l'ala comunale dei servizi pubblici come cimiteri, riscaldamento, illuminazione pubblica e che mette le basi alla vendita di GESAM, luce e gas. Andiamo ora sullo schermo, andiamo a vedere l'apertura. Il turismo in provincia di Lucca, in crescita il capoluogo, la Piana e la Versilia, Calano, Mediavalle e Garfagnana. Vediamo qualche dettaglio in più a proposito di questa notizia importante per l'economia della nostra zona. Lucca può ben dirsi soddisfatta dell'annata 2017 per quanto concerne arrivi, ovvero coloro che non pernottano in strutture regolari e presenze, ovvero coloro che passano almeno una notte nella città, turistiche. I dati infatti confermano la tendenza positiva che già si era evidenziata anche nell'anno precedente per tutta la Piana. Sono stati presentati ieri mattina a Palazzo Orsetti i dati relativi ai flussi turistici del 2017 nella provincia di Lucca, presentati dall'assessore Stefano Raghianti e dai dirigenti comunali Antonio Marino, Giovanni Marchi, nonché dall'amministratrice unica di itinera Laura Celli. La Piana di Lucca ha registrato un buon incremento passando da 291.193 arrivi del 2016 a 306.129 per le presenze. Quindi insomma per le presenze si passa da 681.000 dell'anno precedente a 786.000 del 2017. Quindi dati decisamente importanti. Andiamo sul Tirreno, online edizione Versilia, apertura dedicata alla sanità. In 7 dicono addio all'ospedale Versilia, anche due primari che vanno in pensione. Sono il dottor Cima e il dottor Salvi che lasciano la direzione dei reparti di ostetricia e psicologia e vanno in congedo, ovvero vanno in pensione. Ancora sul Tirreno, online edizione versiliese, vediamo altre notizie della mattinata. Sempre più animali selvaggi vicino alle abitazioni. Vediamo questa notizia che preoccupa certamente. Sono soprattutto i caprioli a scendere a valle, arrivando perfino al mare. L'associazione Vega Soccorso dice che dobbiamo intervenire tutti i giorni a recuperarli. Guardate questa foto, siamo nella Pineta, c'è un capriolo. Bene, da questo andiamo nella Pineta di Seravezza. Andiamo ora a vedere altra notizia, sempre sulla cronaca del Tirreno. Tentano di rubare un furgone arrestati tre giovani e poi fa un volo di 15 metri salvata dall'elicottero. Sul Tirreno, però, questa volta edizione Lucca, apertura dedicata alla questione dell'Istituto Carrara. A maggio gli interrogatori dei bulli e il professore torna in aula. Gli inquirenti preferiscono far scemare il clamore mediatico prima di ascoltare i sei indagati. Il docente, aggradito dagli studenti, si appresta a rientrare in classe nel corso di questa settimana. Poi, un corteo di trattori per dare l'addio a Tarabori, l'abbiamo visto anche ieri, il funerale al quale hanno partecipato moltissimi agricoltori della zona. Poi, bulli contro il professore, il consiglio d'Istituto, tre bocciati. Gli altri verranno sospesi. Vediamo se ci sono altre notizie. S lunga da battaglia sulla tariffa dei rifiuti, la catena contro il comune, vediamo perché e le ragioni soprattutto. In ballo ci sono quasi 250 mila euro. S lunga contro sistema ambiente e comune, braccio di ferro per la tariffa su rifiuti. In ballo ci sono quasi 250 mila euro di fatture. Andiamo ora sulla Cronaca della Nazione, online edizione Vireggio Versilia, il 25 aprile, che si celebra domani, mercoledì. Viaggio nei luoghi delle stragi naziste, storie di coraggio e vili rappresaglie. Sant'Anna, Valpromaro, nel comune di Camaiore e Marignana sono nomi che fanno venire i brividi. Vediamo qualche dettaglio in più di questa notizia, certamente importante. A Sant'Anna di Stazzema, Valpromaro, è una lingua di case tagliate in due dalla strada provinciale che unisce la Val Freddana alla Piana Lucchese. Qui il 30 luglio del 44 un reparto nazista occupò il paese dopo che il giorno prima c'era stato un conflitto a fuoco tra i soldati tedeschi e i partigiani. A nulla valse il tentativo di mediazione dei parrosci della zona. Il giorno successivo 12 uomini furono condotti appena fuori dal paese sulla stradina che porta Migliano e lì fucilati senza pietà. Fu quella una delle prime rappresaglie che segnarono l'indimenticabile estate del 44 che portò poi anche all'Eccidio a Sant'Anna di Stazzema. E domani 25 aprile, in questi luoghi, lo ricordiamo, Sant'Anna di Stazzema e poi ancora Valpromaro e Marignana, si celebra questo importante avvenimento. Andiamo ora sulla Nazione online edizione lucchese, SOS Bullismo, agenti anche in classe durante le lezioni. Una ulteriore misura per arginare il fenomeno emersa al vertice tra le forze dell'ordine e i dirigenti scolastici. Cosa fare il 25 aprile e il primo maggio in Toscana? Escursioni, mostre e tanto altro. Oggi la Nazione, in cronaca di Lucca, dedica molto spazio a questo argomento. Poi il capriolo si ferisce cadendo da 10 metri ma è stato salvato e in tanti ha la Toscana in bocca per il pasticcere Damiano Carrara. Andiamo ora sulla tgregione.it. Barbiere mai più Repubblica Via Regina porterà fiori il 25 aprile alla targa ai martiri di Sant'Anna, al Principe di Piemonte. Via Reggio, Repubblica Via Regina saluta con favore la festa della liberazione dall'antifascismo affermando che il 25 aprile non è che, vediamo un attimo, apriamo questa pagina per leggere qualche dettaglio in più, per il 25 aprile dicevamo non è solo un giorno da ricordare, leggiamo, un giorno di ricordo e memoria verso coloro che sacrificarono la loro vita per la nostra libertà, ma anche un giorno di riflessione e di lotta contro i vecchi e i nuovi fascismi. Sempre su tgregione.it vediamo altre notizie di aggiornamento della mattinata. Bullismo e Aicol, giornata di sensibilizzazione nelle scuole con i balneari di Lido di Camaiore. È stata organizzata appunto dal Lido di Camaiore, vediamo qualche dettaglio di questa notizia perché mi sembra molto interessante. Eccola qua giù, qui vediamo il presidente dei balneari nella foto del Lido. Una giornata di sensibilizzazione nelle scuole sui temi del bullismo, dell'alcol e della sicurezza stradale. È l'iniziativa organizzata e coordinata dall'Associazione Balneari di Lido di Camaiore per giovedì 26 aprile con le classi medi dell'Istituto Giorgio Gaber di Lido di Camaiore. Sempre sulla testata online, la nostra, noi tv web, bullismo, vertice in questura tra dirigenti scolastici e forze dell'ordine. Questa mattina si è tenuto un incontro in questura sul tema del bullismo, dopo i fatti all'Istituto Carrara. Hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, il provveditore Buon Riposi e i dirigenti scolastici delle scuole superiori della provincia. È tutto per questa prima parte di pomeriggio con noi. Tra poco l'ospite in studio. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi. Salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione. E salutiamo il nostro ospite che è Alberto Giovannetti, candidato sindaco del centro-destra a Petrasanta. Ha un'esperienza amministrativa importante perché è stato assessore e vice sindaco nel secondo mandato di Massimo Mallegni. Quello che ha visto al governo il centro-destra della città di Petrasanta dal 2005 al 2010. È il capogruppo uscente dell'ultimo mandato del sindaco Mallegni. È stato capogruppo di Petrasanta prima di tutto. Ed è un imprenditore molto conosciuto in tutta l'area della nostra Versilia. Tanto in bocca al lupo per questa campagna elettorale che come tutte le campagne elettorali è sfibrante, stancante, però è anche molto molto stimolante. Allora, cominciamo con il problema grosso visto che il turismo per la Versilia è un po' la colonna vertebrale della nostra economia. Turismo e purtroppo divieti di balneazione. Che cosa si deve fare a questo punto? Proseguire con la sperimentazione dell'acido peracetico o trovare soluzioni alternative? Io anzitutto ringrazio per l'invito e sono contento di essere qua. Il mio impegno in politica è a parte da diversi anni, sempre a fianco dell'amministrazione Mallegni dal 2000 e oggi mi ritrovo fortunatamente a essere in un ruolo diverso. E quindi, anzitutto, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta, a chi ci segue e quindi niente. Per quanto riguarda l'acido peracetico, il problema della balneazione, io credo che sia opportuno in questa fase continuare la sperimentazione, perché adesso, in questo momento, non ci sono alternative. Quindi, adesso siamo a ridosso della stagione, anzi, probabilmente questa sperimentazione doveva terminare già alcuni mesi prima. Siamo sempre in questa fase sperimentale e bisogna risolvere il problema a monte. Nel senso, bisogna creare nuove reti fognari, come stiamo facendo alle Focette, a Capriglia, come abbiamo fatto all'abbaccatoio. Purtroppo si arriva, non è per ricordare quello che è stato il passato, ma si arriva da 5 anni, praticamente dal 2010 al 2015, dove non è stato fatto niente di strutturale. Quindi oggi, in questi due anni, credo che si siano stati fatti importanti passi avanti. Un altro fattore importante, perché noi possiamo fare anche reti fognarie, però Gaia deve anche potenziare gli impianti di depurazione. Perché se noi facciamo tutte le reti fognarie e poi non abbiamo impianti di depurazione all'altezza, è chiaro che il problema non si risolve. Quindi ci deve essere, come il discorso della terza vasca a Querceda, che riguarda anche la zona di Strettoia, allacciamenti anche nella bassa Strettoia, Montiscendi, 115. Se non c'è la terza vasca, tutto rimane lì, campato per aria. Oggi, grazie al nostro membro del CDA, abbiamo ottenuto a Gaia un grosso finanziamento che consente di pagare debiti, regressi, fare gli investimenti e fare anche investimenti che rilanciano ulteriormente l'attività di Gaia sul territorio. Quindi nuove reti fognarie su tutta la fascia della Versilia. Per evitare che domani non ci sia più bisogno dell'acido peracetrico, ma ci siano delle realtà strutturate che consentono di non avere più problemi sugli sversamenti o sugli vieti di bagnazione. Un altro fattore importante è quello che devono fare le amministrazioni, che sarà un impegno mio personale, di fare allacciare quelle abitazioni che ancora dove esiste la rete fognaria non sono ancora allacciate. Questo è un altro problema. E' un problema più importante questo qui, tra l'altro. E' un problema importante, voglio dire, ci sono delle strade dove esiste già la rete fognaria, però ci sono abitazioni che ancora non si sono allacciate. E quindi vanno sollecitate. Quindi ci deve essere un progetto, un percorso che cammina di pari passo e ci deve essere come a Pollino, come a Querceda, come a Camaiore, ci sono degli impianti di depurazione, devono essere potenziati. Perché se non si potenziano, la notte è che noi si fanno 50 km di rete fognaria e poi l'impianto mare X, mare Sversa, e quindi il lavoro che viene fatto viene buttato alle ortiche. L'altro argomento di attualità, proprio in questi giorni, è quello di Rocca di Sala. La messa in sicurezza è stata realizzata. Ora, a questo punto, che cosa se ne fa? Un centro culturale? E poi, soprattutto, come si riesce ad arrivare lassù in cima, visto che c'è da fare una bella sgrupponata? A piedi o si prevede qualcosa? Si prevede qualcosa, tanto bisogna pensare a trovare gli investimenti, perché l'amministrazione Marlegni è riuscita a fare investimenti per 500 mila Euro, credo che sia fatto un passo importante. Poi, l'altro aspetto è come ci si arriva, trovare gli investimenti, perché sono circa 7 milioni, c'è già un progetto, non è che le cose vengono fatte così alla Carlona. C'è già un progetto esistente, ha bisogno di un sostegno finanziario, credo che con la posizione che sta ricoprendo, ricoprerà il nostro senatore Massimo Wallegni, persona di alto livello, di alto profilo, sarà in grado di trovarci anche le risorse per mettere mano alla Rocca di Sala, per dire anche al Salto della Cervia. Anche quella è una realtà sul territorio esistente, voglio dire, io non so chi nel passato hanno trovato risorse per 800 mila Euro per la Torre di Guardia a Motroni, che non si sa ancora dov'è questa Torre di Guardia, voglio dire, hanno trovato le risorse su niente. Se lei diventa sindaco lo sosterrà questo progetto o no? Ma io sostenerò questo progetto della Rocca, anche per quanto riguarda la mobilità, addirittura in passato avevamo previsto anche un percorso alternativo rispetto alla piazza, la piazza anzi va valorizzata perché non bisogna valorizzare il centro storico, però c'era già un'idea di un progetto di viabilità che si arrivava attraverso la via di Capriglia, quindi le soluzioni ci sono, bisogna avere le capacità e l'idea è chiare di dove si vuole arrivare, bisogna trovare i finanziamenti, cosa che in passato non è stato fatto niente, se non per questi 800 mila Euro, però su qualcosa che non esiste tutt'oggi. Noi abbiamo delle realtà come il salto della Cervia e la Rocca di Sala che sono oggetti reali, sarebbe stato meglio spenderli per uno dei due... E non per i motroni. I motroni va benissimo, però prima pensiamo a quello che si vede, a quello che si tocca. Certo, in questi giorni leggendo il giornale abbiamo visto un collega che ha scritto, parlando di Pietrasanta, una cena town a cielo aperto. Si chiudono laboratori importanti e si trasformano in trattorie o ristorante, qual è il suo punto di vista in proposito? Il mio punto di vista su questa situazione dei laboratori che cessano, purtroppo i laboratori oggi si sono trasformati in realtà importanti, quindi basti pensare a Cervietti Franco, Cervietti Franco o Studio SEM, erano delle realtà dove erano sacrificate all'interno del centro storico, dove non potevano sviluppare le loro potenzialità. Trasferendosi, adesso sono in grado di affrontare anche lavorazioni di enormi, voglio dire, di blocchi di 50-60 tonnellate, quindi dove c'è bisogno di ammontazione, dove non poteva essere fatta nel centro storico. Quindi il centro storico dovrebbe essere la vetrina di quello che gli artigiani realizzano, creano. Quindi noi bisogna puntare agli artigiani che sono il nostro patrimonio artigianale, oltre che al turismo, quindi creare questa sinergia turismo-artigianato. L'artigianato è fondamentale, è la nostra partenza di Pietrasanta, è quella che ci ha fatto conoscere il mondo, quindi non si può abbandonare l'artigianato, anzi nel passato è stata creata questa associazione che si chiama Artigian Art, quindi va valorizzata ulteriormente, bisogna investirci in risorse finanziarie e umane. Abbiamo fatto con la Fondazione Artivisive, che è anche quella in sinergia con Artigian Art, fanno eventi, fanno mostre, fanno formazione. Quindi bisogna, come si dice, sostituire la realtà dei laboratori con quelle realtà che sono espositive, eventi, manifestazioni, attraverso quelle realtà che noi abbiamo in questi anni realizzato e costruito. Quindi stop, diciamo così, al proliferare di trattorie e ristoranti. Ma le trattorie e ristoranti, anche quelli fanno parte della realtà turistica di un territorio. Laddove c'è un movimento continuo di persone, di comunità, è chiaro che si creano anche bar, ristoranti, attività, gastronomie, quindi tutto fa bene a Pietrasanta. Io non credo che ci sia da mettere limitazioni. Limitazioni vanno messe a quelle realtà che magari possono portare caos, confusione nella quiete del centro storico. Però bisogna avere un'idea chiara di quello che si vuole fare di Pietrasanta. Noi l'idea ce l'abbiamo, è quella di mantenere Pietrasanta la vetrina della Versiglia, la vetrina della costa, la vetrina di tutto il comprensorio apoverzigliese. Questa è la nostra idea, perché Pietrasanta è conosciuta a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo e a livello internazionale. Grazie ai nostri artigiani. Soprattutto. Io volevo parlare della versiliana ora. Che cosa intende fare se lei diventerà sindaco? Si lascia questa fondazione, si cambiano gli strumenti della fondazione, un direttore artistico nominato con un bando europeo, che cosa? La fondazione oggi, bene o male che può guardare il futuro con una prospettiva positiva. È stata sanata da circa un milione di euro i debiti, di problemi che abbiamo trovato. Quindi la fondazione oggi si trova a guardare il futuro in maniera diversa. Quest'estate ci sarà la manifestazione del teatro a costo zero. C'è il caffè che anche quest'anno, quest'estate, ha avuto dei personaggi importantissimi che ci hanno dato un'immagine internazionale per la versilia e per quanto riguarda il nostro territorio. La fondazione, per quello che mi riguarda, ci sarà la nomina del CDA e del Consiglio di Indirizzo. Quindi il CDA in autonomia dovrà prevedere la formula per nominare il direttore artistico. Io non sono qui a dire facciamo questo modo, io credo che la cosa giusta sia cercare all'interno del CDA persone di alto profilo. Poi chi sarà nominato all'interno del CDA farà le sue valutazioni e le sue scelte, però avendo una situazione risanata, come è stata quella della farmacia, anche quella purtroppo era una situazione drammatica, come è stata anche dello stesso bilancio comunale. Oggi noi abbiamo un bilancio comunale che credo che sia tra i numeri uno in Italia, non solamente in Toscana, dal punto di vista della struttura. Quindi oggi noi possiamo, abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo tutte le potenzialità per guardare da tutti i vari settori, Pietrasanta proiettata avanti nel futuro. E quindi abbiamo tutto questo potenziamento, va sfruttato, va valorizzato. Noi l'abbiamo dimostrato con i fatti. Quindi lei dice sostanzialmente fra cinque anni se io sarò sindaco, lascio una città, ammesso che poi non si vuole ricandidare. Adesso c'è già. C'è già. Va potenziato ulteriormente. Lascio una città che potenzia ulteriormente le sue eccellenze. Certo, quindi per quanto riguarda la fondazione, la fondazione all'interno del CDA farà le sue valutazioni. E' chiaro che bisogna avere la capacità di mettere all'interno del CDA persone che siano all'altezza e con alti profili. Mancano, anzi, abbiamo esaurito lo spazio, però Alberto c'è un'altra domanda da farti. Il tuo collega Daniele Mazzoni si candida con una lista civica e vi definisce la vecchia politica. Che cosa si può rispondere? Ci sarà rinnovamento nelle vostre liste? Per quanto riguarda Daniele Mazzoni, che io considero un amico, nel senso che poi alla fine le nostre porte sono sempre aperte a tutti, mai chiuse, sempre aperte. La sua posizione io non la capisco. Non è una situazione politica da risolvere, è una situazione personale. Purtroppo lui ha fatto una scelta sbagliata, secondo me, spero che ci ripensi con tutto il suo gruppo, il suo seguito, non lo so. E alla fine noi siamo lì, presenti, la nostra porta è aperta. È stato fatto un percorso, da lui condiviso, per la scelta del candidato a sindaco di Forza Italia. Chi praticamente vince, perdeva, doveva sostenere il vincitore. Abbiamo stretto le mani, ci siamo scambiati, come si fa fra uomini, ci siamo dati la mano. Per me dare la mano, io non è che vado a dare la mano così tra la gente, così tanto per salutare, sì, però è un impegno. È un impegno, è come andare dal notaio. Per me è un impegno, perché io la mano la do quando devo salutare, ma anche quando mi devo impegnare. Io, dalla mia esperienza imprenditoriale, di lavoro, mi sono sempre comportato in questo modo. E credo che la stretta di mano per me ha un valore. Non è una cosa così che si fa e poi dopo mezz'ora ci si ripensa e si fa finta che non sia successo niente. Quindi, quanto riguarda la vecchia politica. Se la vecchia politica è quella che ha fatto dal 2000 al 2010 e dal 2015 ad oggi per Pietrasanta, ben venga la vecchia politica, anzi, tappeti rossi, ben venga. Noi avremo all'interno delle nostre liste cittadini nuovi, avremo cittadini che hanno magari anche qualche esperienza, che credo faccia sempre bene, perché poi sono quelli che hanno lavorato in questi anni con tutti noi, con Mallegni e tutta la parte che oggi ha fatto quello che ha fatto, sotto gli occhi di tutti. Io ringrazio molto il nostro ospite Alberto Giovannetti, candidato sindaco del centro-destra a Pietrasanta. Un sincero in bocca al lupo quello che facciamo a tutti i nostri ospiti, naturalmente, che vinca sempre la buona politica. Certo, io credo che alla fine sono contento di questo invito, spero ci ne siano altri. Certo, certo, certo. Io ho le idee chiare, io voglio mettermi a servizio, sono a servizio dei cittadini, punto. Tutto il resto. E poi sono anche abituato al confronto. A me mi piace confrontarmi con le persone, con i cittadini, con le imprese, e poi prendere le decisioni in maniera responsabile, però rapidamente, perché non abbiamo tempo da perdere. Grazie Alberto, grazie di cuore veramente, e in bocca al lupo naturalmente per questa campagna elettorale. Noi ci rivedremo puntuali domani alla solita ora, a tutti buon proseguimento di giornata, arrivederci.